Grazie Ipro per avermi invitata a condividere i cerotti LifeWave, perché è bello parlare di qualcosa che è stata una benedizione per me e mio marito. Lavoravo nell'industria cosmetica per 22 anni. Ho iniziato con i cerotti LifeWave nella seconda settimana di novembre 2023. Ho usato tutti i cerotti praticamente. Visto che ho lavorato nell'industria della cosmetica per più di vent'anni, ero super curiosa a proposito della vita. Perché una volta che smisi di usare tutti questi prodotti cosmetici, sviluppai una malattia alla pelle. Insomma, ero piena di puntini rossi su tutto il viso, soprattutto sul naso. Sembrava che io avessi un acne al naso. A me non piaceva girare con il trucco e quindi insomma ero molto stressata. Sono molto contenta adesso che questa malattia non ci sia più. Sono molto, molto innamorata della vita, insomma. E mi piace anche alla vita perché avevo delle rughe, soprattutto in mezzo alle sopracciglia. Quello che si chiama il numero uno, non so, alcune persone lo chiamano il numero uno. Adesso è molto meno visibile. E anche la mia figlia che adesso fa la parrucchiera, ma che lavorava con me nell'industria cosmetica, mi ha fatto notare queste cose. Anche il fatto che avevo molto più rughe sulla fronte. Adesso non le ho più, o non tanto. Nella mia famiglia c'è un sacco di gente che ha artrite. Gente che si è fatta sostituire il ginocchio, o l'anca, o le spalle, la spalla. E io pregavo e chiedevo al Signore di essere risparmiata da questa sorte. Per fortuna ho trovato questi cerotti. Insomma, prima di incontrare questi cerotti, avevo, ad esempio, un ginocchio destro che mi dava molto, molto fastidio. Ma ormai sto molto meglio e in alcuni giorni non mi accorgo neanche di avere fastidio. Cioè, non ho proprio fastidio al ginocchio destro. Quindi sento molto meno dolori e disturbi. Puoi essere più specifica, quali cerotti hai utilizzato, tu e tuo marito? Energy Enhancer, SP6, Eon, Glutathione, Carnosine, X39, X49, tutti praticamente. Sono un po' tanti, quindi non li ho usati ogni singolo giorno. Però, X39, Eon, Glutathione, Carnosine, sì, ogni giorno. Sono stati fantastici per me fino adesso. E' un po' tanti, grazie. Grazie.